Licenziato e denunciato per aver rubato alcune opere d'arte nella casa di riposo del paese in cui lavorava. La cosa divertente è che per non essere riconosciuto si avvolgeva in un lenzuolo come un fantasma. Vediamo Enrico Rotondi. Un fantasma si aggira per i corridoi di un'antica istituzione pavese. Ogni volta che le telecamere documentano i suoi passaggi, dagli uffici sparisce qualcosa di valore. L'istituzione è il più albergo per Tusati, una casa di riposo per anziani passata sotto la gestione dell'ASP di Pavia. Il ladro, consapevole della presenza delle telecamere, ha pensato bene di infilarsi un cappuccio in testa e di avvolgere il corpo in un ampio lenzuolo. Nel giro di pochi mesi, dal Pertusati, sono spariti tre quadri del Seicento e una quarantina di faldoni dell'archivio storico del Lente, beni che comunque non superano il valore di qualche decina di migliaia di euro. Le immagini del fantasma consegnate ai carabinieri di Pavia hanno consentito di risalire un addetto alle pulizie. Dopo intercettazione e pidinamenti, i carabinieri hanno trovato il ricettatore. Tele e documenti sono stati restituiti. Al Belfagor del Pertusati è rimasta invece, oltre al licenziamento, una denuncia a piede libero per furto aggravato.